Allora cari amici che forse siete chiusi in casa come noi e che potete quindi studiare, potete vedere video, potete informarvi e quindi sviluppare quel tipo di consapevolezza che è indispensabile per sconfiggere il nemico centrale dell'umanità, che è il nemico della finanza internazionale. Oggi approfondisco questo tema, vi farò vedere perché l'Unione Europea, come faccio a dire che l'Unione Europea non è l'unione dei popoli europei, non è la solidarietà tra i popoli e i lavoratori europei, è tutto il contrario, l'Unione Europea è una dittatura finanziaria, l'Unione Europea è l'unione, questa sì, delle banche contro il popolo, contro i lavoratori, contro l'economia reale, contro la salute e il benessere delle persone. Bene, è uscito su Bioblu una seconda intervista a Maglio Dinucci, giornalista del Manifesto, che tratta un tema conosciuto da pochissime persone, perché non ne parla nessuno praticamente, ed è una cosa enorme, come se fosse sbarcata un'astronave marziana di 50 km di diametro in una pianura padana e nessuno ne parlasse. Bene, di cosa parla Maglio Dinucci, un giornalista esperto di guerra? Parla appunto di quella che si potrebbe chiamare l'invasione americana in Europa. Il termine corretto è Defender Europe 2020, il che significa difesa, difensore dell'Europa 2020. E perché mai ci dovremmo difendere in Europa? Ci stanno attaccando qualcuno. Che cosa è successo esattamente a Zagabria Dinucci? Ecco, l'ha già detto, ma voglio ripetere questo dato ultimo, cioè 22 degli attuali 27 paesi dell'Unione Europea che appartiene alla Nato e alla riunione di Zagabria partecipava il segnale della Nato Stoltenberg. Tema centrale la mobilità. Ora, in un momento come questo ci si attenderebbe… Quindi ripeto, il 4-5 marzo a Zagabria si verifica un incontro tra i ministri della difesa, di cui avete visto le facce prima, dei 27 paesi appartenenti all'Unione Europea, dei quali 22 appartenenti alla Nato. In questo momento per cosa si riuniscono i ministri della difesa? Cioè la difesa vuol dire difesa militare, nel momento che ciò da qui oggi ci dovremmo difendere, uno è il coronavirus, due sono gli effetti economici del coronavirus che sono per l'Unione Europea e per l'Italia in particolare assolutamente devastanti. Vediamo di cosa si si sono occupati questi ministri. La mobilità fosse la preoccupazione dei vari paesi dell'Unione Europea di fronte a grossi blocchi della mobilità dovuti ovviamente alle norme straordinarie di prevenzione del coronavirus, invece niente di tutto questo. Non ci si occupa del coronavirus e dei blocchi alla mobilitazione che il coronavirus impone, ma ci si occupa di un'altra mobilitazione. Si è parlato di un'altra mobilità, la mobilità militare e questo è un concetto ben preciso che non è nato oggi. Vuol dire come potenziare la rete europea dei trasporti per poter far circolare non auto semplicemente e camion, ma blindati e carri armati. Questo è il concetto della mobilità militare. Il segretario generale della Nato in questa riunione ha indicato la grande esercitazione Defender Europe 20, cioè difensore dell'Europa 2020, come un test decisivo per la mobilità militare europea. In quanto ha detto che questa esercitazione costituisce il più grosso spiegamento di forze usa in Europa e lui ha detto dalla guerra fredda, dalla fine della guerra fredda. Il 4-5 marzo a Zagabria si ha un incontro tra i ministri della difesa dei 27 paesi dell'Unione Europea. Avete capito bene, ministri della difesa. Di questi 27 paesi dell'Unione Europea, 22 sono parte della Nato. In questa riunione era presente il segretario generale della Nato, segretario generale dal 2014, è un norvegese, che si chiama Jens Stolterberg e il segretario generale della Nato ha indicato la grande esercitazione che ha un nome che si chiama Defender Europe 20, difensore dell'Europa 2020, come test decisivo per la mobilità militare europea. Mobilità militare europea. Cosa significa questo? Beh, significa come poter potenziare la rete europea dei trasporti di blindati e carri armati. Cioè si è detto che negli ultimi, dagli anni 90 in poi, l'Europa fondamentalmente si è occupata della mobilità civile, di automobili, camion, tir, ma adesso bisogna cominciare a occuparsi della mobilità appunto di carri armati, in particolare anche dei grandi carri armati Abram, che pesano 68 tonnellate. Quindi questo significa che in tutta l'Europa bisogna individuare le zone, le strettoie, dove i carri armati non possono passare adesso, nello stato attuale. Per esempio i ponti, molti ponti, non reggono il peso dei carri armati, lo stesso le gallerie non sono abbastanza alte per far passare i carri armati grandi con i loro cannoni sopra. Quindi bisognerà fare tutte queste modifiche, le quali hanno, potete immaginare, un costo altissimo. Ecco, l'Unione Europea ha destinato per queste modifiche delle infrastrutture, una trentina di miliardi di Euro, ma non è sicuro che poi li passerà ai Paesi che devono fare, però sono lì, forse potrebbero essere date in parte ai Paesi. In realtà sono i singoli Paesi che devono pagare il piano che è stato elaborato dal Parlamento europeo, perché la mobilità è stata prevista da un rapporto del Parlamento europeo, e questa mobilità decisa, questo tipo di mobilità, la mappa della mobilità ha deciso il Parlamento europeo sul suggerimento del piano previsto dal Pentagono e dalla Nato, è diventato il compito fondamentale dell'Unione Europea. Cioè oggi l'Unione Europea non ha più il compito di aiutare i lavoratori, ce l'ha mai avuto? No. Non ha più il compito di aiutare le imprese, ce l'ha mai avuto? No. Ma quantomeno non aveva il compito di dotarci, oltre a non farci usare la moneta debito in nessun caso, però non ci addossava anche le spese militari. Invece adesso le spese militari che dovremo compiere, che saranno altissime, le potremo pagare solo in un modo, chiedendo soldi a prestito. A chi? Alla Troica. Perché attraverso la Troica noi quindi dovremo poi fare quelle riforme strutturali che, dice Maglio Di Nucci, ci renderanno simili alla Grecia. Cioè non saremo più padroni di niente, più padroni di nulla. I dati li abbiamo già forniti nella precedente trasmissione, ma vi riassumo. Stanno arrivando dagli Stati Uniti 20.000 soldati USA, che si uniscono a dati 10.000 già presenti in Europa. E alcuni sono già arrivati, giusto? Stati Uniti 20.000 hanno qualcosa come 33.000 pezzi di equipaggiamento militare, si intende dagli armamenti personali ai carri armati Abrams, e insieme a loro poi ci sono 7.000 soldati di altri paesi della Nato. Questi sono i dati. Ma appunto qui c'è il problema della mobilità. Ora vi ripeto i dati, mi limito a ripetervi lì. 20.000 soldati che verranno dagli Stati Uniti, più 10.000 che sono già in Europa, gli statunitensi. Poi arriveranno sempre dagli Stati Uniti 33.000 pezzi di armamenti militari che vanno dalle armature e armamenti personali fino ai carri armati Abrams, come avete visto, come abbiamo già detto, pesano quasi 70 tonnellate, più 7.000 soldati di altri paesi Nato. Il problema è questo. In un momento in cui l'economia europea, e in particolare quella italiana, è colpita dalle misure straordinarie antivirus, bene, l'Unione europea spende 30 miliardi per potenziare la mobilità militare, invece che intervenire e usare questi miliardi, per esempio, per salvare tutte quelle piccole, medie imprese ed esercizi, parlo dell'Italia, che se continua di questo passo, la brutta storia, finiranno per chiudere, quindi creando un danno economico incalcolabile, perché costituiscono piccole e medie imprese, costituiscono l'ossatura vera dell'economia italiana. Bene, questo è uno degli effetti della vicenda che stiamo vivendo. Allora, l'Unione europea, colpita dal coronavirus, un'economia quindi che è in recessione, spende 30 miliardi in spese militari, invece di aiutare imprese e lavoro, creando un danno incalcolabile a piccole e medie imprese, che in Italia costituiscono il tessuto connettivo del paese, e che se le cose andranno avanti così, si prevede, dagli economisti prevedono, che ci vorrà un'emissione di moneta non a debito di almeno 50 o 100 miliardi di Euro. Invece no, invece noi oltre a non ricevere finanziamenti di alcun tipo, oltre a rimanere nella nostra solita moneta non a debito, ci dobbiamo assumere un debito incalcolabile, che è quello della ristrutturazione della rete autostradale per far passare i carri armati Abrams. Allora, cari amici, io spero che questo vi faccia aprire gli occhi, e se avete dei bambini, dei nipoti, ma solamente se avete delle persone vive, che amate, se vi amate voi stessi, se amate il vostro paese, se amate la luce, se amate il mare, se amate le montagne, se amate gli animali, qualunque cosa voi amiate, che sia diversa dalla guerra, risvegliatevi, tirate le fila e ricordatevi che la soluzione c'è. La soluzione è riappropriarci del potere che ci dà la Costituzione italiana. Su, giù, basta, attacca briga. Allora, cari amici, colgo l'occasione per annunciare che fra qualche giorno su questo canale verrà pubblicato un filmato che abbiamo realizzato dedicato alla distinzione tra moneta non a debito, quella costituzionale, e la moneta a debito, quella del finanze, capitalismo, o del finanze virus, o del virus della finanza, insomma quello che volete, che è veramente indispensabile da conoscere molto bene per orientarsi nella complessa situazione di oggi, economica, politica e finanziaria. Grazie dell'attenzione.